io invece ci ho riflettuto perché ho guardato bene e ho visto che non è che c'era scritto che era chiuso però è franata giù quando frana finché non la liberano però mi aspettavo che se fosse stata chiusa avrebbero scritto che era dal chilometro tale al chilometro tale bisogna passare dall'altra parte forse si prende meglio di là a